Oggi Facebook è in ribasso quasi del 3% e invece Twitter perde il 5,49% Durante la seduta è arrivato a perdere fino al 10% Cosa sta succedendo? Benvenuti su Investire con Gus Ho deciso di fare questo video perché guardavo i mercati e ho visto che Facebook stava crollando E ho visto la notizia che pure Twitter stava crollando Quindi ho deciso di fare una piccola ricerca e scoprire cosa stesse succedendo Se apprezzate questi super video le Ampo fatti il più velocemente possibile Per portarvi delle informazioni fresche Lasciate un bel mi piace e se siete nuovi iscrivetevi al canale Ormai tutti quelli che mi seguono sapranno che Facebook è presente nel mio portafoglio È una delle più grosse posizioni del mio portafoglio E in questo video vi ho spiegato perché ci ho investito quando quotava circa 150 dollari per azione Quindi quando le azioni si muovono tanto cerco sempre di capire cosa stia succedendo Cercando sulle news ho trovato vari articoli e vari video Tra cui questo in cui c'è il nostro amico Scott Galloway Che parla della possibile fine dei social media Non so se vi ricordate chi è Scott Galloway E l'autore di questo video di cui vi ho parlato in un mio vecchio video The For, i padroni, il DNA segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google Già che ci siamo vi consiglio assolutamente di leggerlo Perché è un libro molto interessante anche se è un po' di parte Vi lascio il link affiliato in descrizione nel caso in cui vogliate acquistarlo In questo libro Scott Galloway racconta la storia di Amazon, Apple, Facebook e Google Di come sono diventate così potenti e di come influenzano le nostre vite In una maniera veramente forte Il libro è molto interessante però il buon Scott è veramente di parte Lui odia queste aziende perché era nel board se non sbaglio del Washington Post Che ha sofferto veramente tantissimo per colpa di queste aziende Perciò quando fa delle dichiarazioni sono da prendere con le pinze E oggi ha fatto delle dichiarazioni secondo me abbastanza assurde Ha detto che il fatto che la rivolta che si è svolta negli scorsi giorni negli Stati Uniti Spinta dalle provocazioni di Trump potrebbe segnare la fine dei social media Perché secondo lui questi avrebbero dovuto gestire meglio la situazione La situazione è molto difficile da valutare, io non sono nessuno Quindi la mia è solo un'opinione così, regalata a voi Che però non vuol dire niente Secondo me queste sue dichiarazioni sono assolutamente assurde Innanzitutto la prima cosa da dire è che se non ci fossero stati Twitter e Facebook Questi si sarebbero organizzati in un'altra maniera Magari via telefono, via Skype, non so, via qualsiasi altra piattaforma Perciò trovo abbastanza assurdo colpevolizzare così queste piattaforme Che normalmente gestiscono abbastanza bene queste situazioni Sono state anche abbastanza veloci nel bloccare Trump A me le sue dichiarazioni sembrano un po' le farneticazioni di un uomo che odia queste aziende Però queste sono solitanto mie opinioni che non valgono niente Perciò non voglio neanche addentrarmi troppo in questo Ma anzi vi metterò il link di questi vari articoli che ho trovato E di questo video di Scott Galloway che trovate su Yahoo Finance comunque Quello che però posso fare è andare ad analizzare queste due azioni Twitter e Facebook Per dirvi se questi movimenti sono assurdi e sono magari delle opportunità di acquisto per noi Direi di iniziare subito con Twitter visto che è un'azienda che non ho mai analizzato sul canale La prima cosa che voglio dirvi è che il CEO Jack Dorsey è uno dei migliori imprenditori del mondo È veramente una persona impressionante che sta ottenendo dei risultati pazzeschi Sia con Square che con Twitter Infatti è anche il CEO fondatore di Square Perciò ho già una buona partenza per questa azienda Avere un buon management è un punto di partenza veramente fondamentale Nell'ultimo periodo mi sto rendendo conto che molto spesso quando si analizzano le aziende È più importante il CEO che le guida, il management piuttosto che i numeri Perciò quando analizzate un'azienda fate moltissima attenzione al management E soprattutto al fondatore, il CEO Perché questi faranno la differenza Guardate un Jeff Bezos che persona è ossessionato dal successo Da far diventare Amazon la migliore azienda del mondo I risultati che ho ottenuto sono veramente pazzeschi L'azienda ha avuto qualche difficoltà negli scorsi anni Nel 2017 c'è stato un calo dei ricavi Ma poi nel 2018 e nel 2019 le cose sono migliorate Nel 2018 i ricavi sono saliti quasi del 25% Nel 2019 quasi del 14% Quindi un'ottima crescita direi Il margine lordo è anche molto buono La crescita è abbastanza decente Nel senso che nel 2018 è cresciuto veramente bene Molto Del 31% Invece nel 2019 è cresciuto del 12% più o meno Quindi un po' meno rispetto ai ricavi E questa già non è una cosa proprio buonissima Diciamo che quando si analizza un'azione ad alta crescita Vorremmo vedere un grossi income che cresce più dei ricavi Non meno Poi questa è un'azienda che deve spendere parecchio in research and development Infatti ha speso 682 milioni Che equivalgono più o meno al 20% dei ricavi Negli ultimi anni l'utile netto è stato positivo Ed è stato anche in buona crescita Nel 2019 è cresciuto del 20% Però c'è da considerare una cosetta Come potete notare il pre-tax income Quindi l'utile pre-tasse È 390 milioni Quindi inferiore all'utile dopo tasse Questa è una cosa molto strana ovviamente Data semplicemente dal fatto che Twitter è stato in perdita per diversi anni Perciò nel 2019 Hanno potuto recuperare le perdite che avevano accumulato Le minusvalenze E queste sono andate a pompare l'utile netto dell'azienda Perciò a livello di conto economico La situazione non è così buona Così positiva Vediamo nel 2020 un po' com'è andata Nel 2020 addirittura l'utile netto è negativo per adesso Pesantemente è negativo per questa grossa perdita Non so cosa sia dovuta Perché non conosco più di tanto l'azienda Però non vedo unusual expenses Quindi spese inusuali Perciò penso che sia dovuta semplicemente Alla normale gestione del business Ah ecco è dovuta al fatto che hanno dovuto pagare Una tassazione enorme Non so cosa stia succedendo con questa azienda Qualche volta le restituiscono le tasse Qualche volta devono pagare delle tasse veramente pesantissime Sinceramente non so cosa sia successo Sarebbe da approfondire guardando i report dell'azienda Però vedere un conto economico di questo tipo Non mi fa neanche venire la voglia di andare ad approfondire Il report dell'azienda Ci sono sicuramente aziende migliori Come ad esempio Facebook Che vedremo tra un pochino I ricavi nei prossimi anni sono visti in forte crescita Tra il 2020 e il 2022 dovrebbe esserci una crescita di circa il 50% Secondo gli analisti Invece l'utile netto sarà abbastanza deboluccio Nel senso che nel 2022 gli analisti prevedono degli EPS di 0,44 E quindi l'azienda avrebbe un price earning di 117 Perciò anche le prospettive future non mi sembrano così eclatanti Nel senso che se le compariamo a Facebook Anche il futuro appare abbastanza deboluccio Facebook sembra avere un futuro più roseo È un'azienda molto più stabile Che produce sempre utili E che per i prossimi anni dovrebbe crescere moltissimo Quindi direi che se dovessi scegliere tra queste due Andrei senza dubbio su Facebook Ah guardate che bello Biogen sta salendo del 7% Niente male Nell'ultimo periodo Facebook è stata un po' deboluccia Aveva raggiunto un massimo intorno a 300 Adesso sta intorno a 262 E questo carico potrebbe essere una buona occasione di acquisto Per chi non ha ancora le azioni Infatti il price earning al momento è 29,6 Per niente alto per un'azienda del genere Per un'azienda che cresce in questa maniera Adesso vedrete Guardate che roba i ricavi Nel 2019 sono cresciuti del 26% Nel 2018 del 37% E per i prossimi anni possiamo tranquillamente aspettarci Una crescita tra il 20 e il 25% Per un'azienda così grossa è veramente impressionante E il price earning che ha il momento è abbastanza ridicolo Però un'azienda che cresce così tanto Un price earning di 30 o inferiore È molto basso Qua possiamo andare direttamente all'utile netto Perché non c'è niente di strano Negli ultimi anni è cresciuto veramente tantissimo Qua nel 2019 è stato in calo Semplicemente perché l'azienda ha dovuto sostenere Una multa dall'Unione Europea Di 5 miliardi di euro 5 miliardi di dollari scusate Senza di questa gli utili sarebbero stati in crescita Una crescita molto più bassa rispetto agli anni precedenti Però comunque una crescita Nel 2020 invece l'azienda ha ritrovato forza Gli utili sono cresciuti di più Per il 2020 gli analisti si aspettano un utile netto di 27 miliardi Quindi EPS per 9,36 dollari Quindi il price earning forward per il 2020 è di 27,7 Per il mercato in cui ci troviamo Con i tassi di interesse così bassi E per l'azienda che è Facebook Secondo me 27 è un price earning molto basso Un price earning più corretto secondo me potrebbe essere intorno a 40 Per la crescita futura che aspetta questa azienda Infatti guardate le proiezioni della crescita dei ricavi che fanno gli analisti Veramente pazzesca Un price earning così è troppo basso Ovviamente intorno a Facebook ci sono molte paure Per il fatto che in molti temono che verrà distrutta Che verrà separata Per evitare che Facebook operi in una situazione monopolistica Molti temono che il suo business verrà distrutto in varie parti Effettivamente Facebook insieme a Google è probabilmente l'azienda più monopolistica al mondo Perciò questo break up dei suoi business è una possibilità abbastanza concreta Però quello che credo io è che se venisse effettuato Facebook potrebbe valere addirittura di più di quello che vale adesso I suoi business potrebbero essere valorizzati maggiormente Pensate solo a che valore potrebbero avere presi singolarmente Instagram, Whatsapp e Facebook Senza parlare di Oculus che è ancora un po' più piccolina Ma che nei prossimi anni potrebbe svilupparsi parecchio Questi tre business principali di Facebook sono veramente pazzeschi Sono super fruttuosi e potrebbero essere valorizzati tantissimo dal mercato se separati Quindi a mio modesto parere se l'azienda venisse forzata a dividere i suoi business Potrebbe essere addirittura una cosa positiva Perciò a questi prezzi Facebook potrebbe essere un buon investimento Nel senso che non è sottovalutata Probabilmente ha un prezzo abbastanza giusto, abbastanza onesto E come dice Warren Buffett è meglio acquistare un'azienda fantastica A un prezzo giusto piuttosto che un'azienda schifosa ad un prezzo sottovalutato Un'altra cosa che molto probabilmente sta facendo scendere le azioni di Facebook È il fatto che Elon Musk ha consigliato Signal Un'app concorrente di Whatsapp Sinceramente non ho idea di cosa sia questa Signal Non l'ho mai sentita Voi la conoscete? L'avete mai usata? Fatemelo sapere nei commenti In questo semplice tweet il buon Elon ha detto Usate Signal Chissà, non so dire quanto potrebbe avere un'influenza questo Però sicuramente i Tesla fanboy inizieranno a utilizzare Signal Piuttosto che Whatsapp Perciò fate la vostra analisi, fate le vostre considerazioni E magari fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Facebook Sono parecchio curioso Io non ci investirò perché l'ho già in portafoglio Sono contento della mia posizione e del prezzo a cui sono entrato Perciò non c'è bisogno di aggiungere Per questo video è tutto Se vi è piaciuto e lo avete apprezzato Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E condividete il video con tutte le persone che conoscete Fino al prossimo video Buoni investimenti a tutti Ciao